... Sapete come abbiamo raggiunto questa perfezione? Abbiamo testato i migliori campioni Feel FIFA 15 Feel the game È tutto pronto? Ecco il fischio d'inizio Questa è una partita per grandi campioni Non c'è spazio per le distrazioni, per gli errori È davvero una partita per numeri uno Per veri fuori classe Si parte, occhio alla manovra, avvolgente È un vero spettacolo, non c'è nulla da aggiungere Le immagini parlano chiaro È un uno contro uno senza precedenti Azione interessante, pericolo Bisogna avere il massimo della concentrazione possibile Serve una prestazione da numeri uno, da fuori classe Deci lindo, ma come sei carino Nulla può fermare un vero campione quando vincere È il suo unico obiettivo Molto bene, adesso prova con questo Occhio all'uno contro uno, la difesa fa fatica a risalire Il portiere solo contro l'attaccante E c'è il gol E c'è il gol Brutto momento questo per il Napoli Palla in area di rigore È sempre più collata Partito in decilio È nesimo a mischia Ma nulla da fare Non si deve calare Però la concentrazione Ragazzi, scelzi La storia È una partita difficile da dimenticare Ti basta questo? La gallina no La gallina sì Dopo l'uovo c'è la gallina La difesa fa fatica a risalire Occhio all'uno contro uno Il portiere è solo Il Napoli è assolto ma ovviamente Non è ancora finita Serve spinta Serve una svolta Un cambiamento Magari una sostituzione Ci da sottolineare La grande prova di Sicilio Che non perde mai la concentrazione Non perde nemmeno un istante di gioco Nessuno Può fargli scrollare gli occhi dal pallone È un vero campione È un vero campione questo Sicilio Tanta concentrazione Merita davvero l'applauso Una prova memorabile per lui Dai Bravo Mattia È un momento del cambio Appesissimo Perché Gonzalo Iguain È l'uomo che può cambiare la partita Che si è messa molto male per il Napoli Sono con il punteggio Eccola qui la sostituzione C'è la stretta di mano L'abbraccio Tutto il popolo azzurro Accaccia almeno dai gol del pari Vedremo cosa saprà dare Iguain Attenzione Subito Iguain Possibilità per lui Iguain Fai come loro Mostra le tue emozioni Mentre giochi a FIFA Scopri di più su www.filfifaf15.it www.filfifaf15.it Ciao 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 Grazie Vieni con me Benito Il premio Mi piace Mamma mia Benissimo Questa è la palla per Vincere a casa Carino Grazie Ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao Grazie Ciao